Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Siamo a Porto d'Ascoli, dietro di me il terreno cosiddetto di area mare. Si torna a parlare dei possibili progetti su quest'area. L'amministrazione di Spazzafumo e i quartieri, ad ogni modo, sembrano che non vogliano perseguire quanto proposto nella precedente giunta Piunti. Allora, noi da tempo seguiamo attentamente questa problematica e ci siamo sempre espressi, non solo come singolo comitato di quartiere, ma anche tra tutti i vari comitati sanbenedettesi, avendo fatto anche delle assemblee pubbliche, quindi abbiamo preso tantissime iniziative per far capire alla vecchia amministrazione Piunti che non era il caso di andare avanti con un'ulteriore cementificazione della città. Ritengo che sono le aree, quelle poche rimaste, a San Benedetto ancora libere, indispensabili per dare servizi alla città, alla gente. La nostra città ha un territorio piccolo e purtroppo i servizi mancano. Adesso probabilmente, se la vecchia proprietà Rebez Laureati non ha mai portato avanti una realizzazione di una discoteca e di un ostello è perché probabilmente hanno capito che il mercato forse era problematico e quindi hanno lasciato stare fino a quando non è stata acquistata. È questo che a noi fa senso, a noi quartieri di San Benedetto, che quest'area è stata acquistata ben sapendo che l'area aveva una destinazione turistica, non aveva una destinazione residenziale. L'amministrazione si è inventata all'improvviso, senza che fosse stato inserito nel programma di mandato, mi riferisco all'amministrazione Piunti, avrebbe così sollecitato i proprietari terrieri o guardate voi cosa volete fare con il vostro terreno. Cosa si risponde a questa domanda? Se io fossi proprietario di un terreno, magari verde, di quartiere, vincolato, direi ma io ci voglio costruire. Fino a che non è arrivata l'amministrazione Spazzafumo, il sindaco Spazzafumo con tutti i suoi attuali oggi assessori, consiglieri comunali, ci hanno detto che assolutamente non avrebbero portato avanti le varianti, ma avrebbero lavorato sulla redazione di un nuovo piano regolatore. E noi siamo grati al sindaco perché finalmente ha capito.